Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. Apriamo quest'edizione con la situazione Covid. Il vaccino AstraZeneca è sicuro, l'ha affermato la direttrice dell'EMA, Emer Cook. Abbiamo ascoltato anche il parere dei cittadini torresi. Scoppia la polemica per la cosiddetta categoria dei fragili. Da mercoledì attiva la piattaforma oggetto di numerose segnalazioni. Nel Vesuviano, intanto, altri decessi. Passiamo alla cronaca con la Guardia di Finanza, che nel Napoletano ha sequestrato oltre 200 tonnellate di pellet e denunciato il gestore di un autolavaggio. Infine è ancora vivo il ricordo di Monsignor Francesco Sannino, che il prossimo 20 marzo avrebbe compiuto 93 anni, una data simbolica che vedrà la nascita di un'associazione culturale con sede a Torre del Greco. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione, rassicura così la direttrice di EMA, Emmer Cook. Può ripartire quindi anche la campagna vaccinale con le dosi della Casa Farmaceutica Britannica, al centro del dibattito internazionale negli ultimi giorni. Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'EMA sul vaccino di AstraZeneca, commenta il primo ministro italiano Mario Draghi. La priorità del governo, continua, rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Subito dopo, la conclusione della conferenza stampa dell'EMA, tenuta nel pomeriggio di ieri, in Francia sono riprese le vaccinazioni con AstraZeneca, mentre la Germania pensa di ricominciare oggi. Così come nel nostro paese, dove il Ministero della Salute ha fatto sapere che le vaccinazioni AstraZeneca riprendono alle ore 15 della giornata odierna. Intanto, continuano a preoccupare i numeri relativi alla situazione Covid in Italia. Sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in più rispetto alla giornata precedente, nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in reanimazione sono 249, secondo i dati del Ministero della Salute, numeri che dovrebbero far rimanere sostanzialmente invariate le zone di rischio in Italia, con ben 10 regioni colorate di rosso, mossa che potrebbe fare da scia ai provvedimenti in corso di elaborazione in vista delle festività pasquali, le seconde dell'era Covid. Nonostante le rassicurazioni dell'Emma, che nella giornata di ieri ha dato il suo ok ad AstraZeneca, non cessano le preoccupazioni sul farmaco anti-Covid. Decisioni prese in tempi troppo stretti, commentano i cittadini di Torre del Greco, che i nostri microfoni hanno così espresso le opinioni in merito. Oggi si riparte con le vaccinazioni di AstraZeneca, l'Emma ha dato il suo via libera, lei si sente rassicurato? Veramente ancora non sono sicuro, se faccio o non faccio il vaccino. Quando arriverà il mio turno, e tutte le cose andranno bene, ci penso. Lei ha già dato la sua decisione per la dose vaccinale? Sì, già l'ho fatto, sono già segnato, aspetto solamente la chiamata. Adesso con questa confusione che c'è, non sappiamo ancora che cosa dobbiamo fare. Quando l'Emma dice il vaccino AstraZeneca è sicuro, lei crede a questa cosa? Ma io ci credo, ci credo, ma però è la televisione che fanno troppo confusione. Esce un medico che dice una cosa, esce un altro medico che ne dice un'altra. Medici negli ospedali che non si vogliono vaccinare, dice non vax, non vax. Però noi siamo i cittadini e dobbiamo accettare quello che dicono loro. Se loro dicono è obbligatorio, allora dobbiamo farlo per forza. Se dicono no, allora ognuno può fare la sua scelta. Penso che sia buono, come hanno detto le autorità, non lo so. Però sono un po' incerto a farlo, veramente. Lei dovesse fare il vaccino, lei lo farebbe? Se è obbligatorio sì, ma se non è obbligatorio no. Ci vuole, altrimenti qua se viene meno venisce male. Non è preoccupato da queste morti sospette? Io so che ho vinto sempre dal parere che se deve succedere, succederà. Ormai abbiamo un destino. Perciò a me non fa paura. Non mi sento rassicurata, ho praticamente rafforzato il mio sistema immunitario perché penso che sia la cosa migliore. Nel senso che noi ce l'abbiamo, il vaccino ce l'abbiamo dentro di noi, è il nostro sistema immunitario. Quindi io lavoro molto sul mio sistema immunitario che mi fa da vaccino. Quindi queste cose proprio non mi interessano. Quando sarà il sottuno lei si vaccinerà? Sicuramente no. Mi dispiace, però è così. La consapevolezza ti porta. Bisogna essere consapevoli. Io lo vivo intensamente questa storia che ho mia moglie che insegna. Proprio l'assicurato no. Diciamo che alla fine io ho seguito molto sia i programmi sia in televisione che hanno un po' spiega più alla Commissione Europea dove insomma alla fine non hanno detto se è sicuro o meno. Loro ti dicono considerato mille casi diciamo l'1% non fa storia. Insomma questa è la cosa che però di rassicurarsi perché intanto in Inghilterra ho altri amici che hanno figli in Inghilterra e chi c'hanno mi dicevano che l'hanno fatto milioni e milioni però la percentuale di persone che sono morte e diceva che chi al limite aveva gli anticorpi poteva essere pericoloso perché poi alla fine ci sono varie storie però le dico con molta onestà senza essere non sono molto convinto diciamo che sono non rassicurato. La moglie allora da insegnante ancora si deve vaccinare? Ma per il momento era tutto bloccato le colleghe sono state vaccinate alcuni parenti alcuni nipoti sono stati vaccinate però ho molta paura perché non c'è il numero del lotto che è stato fatto insomma che si è parlato prima di lotti e no adesso aspettiamo per giunto io oggi domani faccio 65 anni e sarò entrerò anche in quell'arco però non subito che dovrà farsi poi eventualmente un'interiore però le dico con molta onestà ma credo che non sono l'unico che vedo molto non è rassicurante la cosa. Lei si sente rassicurata? Non ha sufficienza in realtà non basta una rassicurazione in pochi giorni tutto così veloce che non mi sento rassicurata la sufficienza neppure però saprei effettivamente io non sono fra i prossimi che si devono vaccinare però appunto non saprei neanche che decisione potrei prendere nel caso fossi una dei prossimi a vaccinarsi. A preoccuparlo ovviamente sono le voci riguardanti queste presunte morti sospette. Certamente ma più che questo che diciamo rientra probabilmente anche nel rischio del vaccino non so se in questa percentuale però a preoccuparmi è la fretta con cui è stato messo a punto questo vaccino d'altronde siamo in periodo di emergenza quindi veramente non so cosa pensare. Crede che a questo punto ci possa essere un'accelerata nel piano di distribuzione? Credo proprio di sì credo proprio di sì perché deve esserci in qualche modo questo virus deve essere sconfitto e non so quale sia la strada giusta probabilmente questa. In Israele ci sono riusciti forse in America pare che ci stiano riuscendo forse anche in Italia questa è la soluzione migliore. Nella giornata di oggi riprendono le vaccinazioni AstraZeneca anche in Campania. Dopo lo stop temporaneo dell'AIFA ed il successivo chiarimento sono ripartite le convocazioni questa mattina e dalle 15 riprenderanno le somministrazioni secondo il calendario delle prenotazioni già previsto. Intanto scoppia la polemica per la cosiddetta categoria dei fragili da mercoledì infatti è attiva la piattaforma attraverso cui i pazienti ritenuti a rischio possono prenotare la dose in via prioritaria. Fin da subito l'unità di crisi regionale ha chiarito che la gestione delle adesioni va gestita dai medici di base modalità che sembrerebbero mettere a nudo alcune falle nel sistema così come denunciato da alcuni pazienti in queste ore. Per quanto riguarda i dati si registra un calo della curva dei contagi e del numero dei decessi nella giornata di ieri attestati a 13 aumentano invece i posti occupati in degenza in miglioramento invece il numero delle terapie intensive per le quali si registrano 153 unità occupate. Stabile anche la situazione nel Vesuviano ieri a Torre del Greco sono stati registrati 27 nuovi contagi e ben 80 guarigioni il computo dei decessi registra inoltre una nuova vittima classe 1947 facendo salire così a 126 i morti da inizio pandemia nel comune Corallino. Un altro decesso si è registrato anche nella vicina Torre Annunziata dove i contagiati sono 17 59 le guarigioni che fanno scendere il totale degli attualmente positivi. Un miglioramento si riscontra a Castellammare di Stabbia dove le misure della zona rossa rafforzata continuano a produrre i propri benefici. La percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni si è abbassata di un altro punto afferma il sindaco Stabbiese Gaetano Cimmino sulla propria pagina Facebook. Misure che dovrebbero essere valide anche per la prossima settimana con la speranza che il trend di ribasso trovi continuità. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso di due distinte operazioni ha sottoposto al sequestro tra Ottaviano e Tezzinio oltre 220 tonnellate di pellet e un alto lavaggio abusivo. In particolare la compagnia di Ottaviano nel corso di un primo intervento ha individuato in pieno centro un immobile di 600 metri quadri sequestrando oltre 13.000 sacchi di pellet pronti per essere messi in commercio. Denunciato il titolare dell'attività commerciale è risultato sprovvisto di autorizzazione di conformità edilizia urbanistica oltre che di certificazione antincendio tenuto conto che il centro logistico era destinato allo stoccaggio di materiale infiammabile. È stata riscontrata l'inidoneità dei locali a conservare un simile quantitativo di pellet con conseguente situazioni di potenziale pericolo per l'intero circondario. Il deposito abusivo si trova infatti in una zona densamente popolata a ridosso di un'arteria principale della cittadina mesuviana Nel corso del secondo intervento ad insospettire le fiamme gialle è stato invece un andirivieni di auto e persone presso un edificio a Terzigno. Qui la stessa compagnia ha scoperto un'attività di lavaggio auto abusiva priva di qualsiasi autorizzazione che sversava le acque reflu all'interno di un pozzetto scollegato dalla rete fognaria. Al momento dell'accesso i finanziari erano invenuto molte auto già lavate o pronte per essere sottoposte al lavaggio. Il gestore è stato denunciato per violazione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e il lecito smaltimento di rifiuti mentre l'interarea e l'immobile utilizzato di circa 200 metri quadri sono stati sequestrati unitamente alle attrezzature utilizzate e ai rifiuti prodotti. Mancano ormai poche ore al 20 marzo data nella quale Monsignor Francesco Sannino avrebbe compiuto 93 anni. Nonostante i 28 anni dalla sua morte il ricordo è sempre vivido in una città dove le sue azioni i suoi gesti e insegnamenti hanno lasciato un segno indelebile che continua a vivere negli anni. Un ricordo che resta senz'altro vivido nella mente di sua nipote Giovanna Romano che da anni porta avanti iniziative sociali in ricordo di Monsignor Sannino. Si erano ormai giunti alla quarta edizione della manifestazione nella quale si attribuivano borse di studio agli alunni maggiormente impegnati nel sociale dell'Istituto Nautico di Torre del Greco dove Francesco Sannino prestò servizio come docente. Manifestazione che l'organizzatrice Giovanna Romano si promette di organizzare entro il 2021. In periodo pandemico dove le restrizioni ci privavano della nostra quotidianità lasciandoci tempo libero atto alla riflessione è nata l'idea di un'associazione che porti il nome del sacerdote. Queste le parole di Giovanna Romano. Un'associazione che vedrà la luce proprio il prossimo 20 marzo in concomitanza con il compleanno del Monsignore. Sarà una data simbolica per l'apertura dell'associazione culturale Monsignor Francesco Sannino che avrà la propria sede in via Beneduce a Torre del Greco. La presidente dell'associazione Giovanna Romano con grande rammarico fa sapere che la cerimonia vera e propria di apertura avverrà in tempi migliori quando l'emergenza sanitaria rientrerà e si potrà programmare un evento degno di nota. L'associazione come da statuto avrà terreno fertile negli ambiti culturali dove si propone di educare la popolazione alle attività culturali artistiche e ricreative al fine della diffusione della cultura in tutte le sue sfumature. Non ci si ferma certamente a questo. Sono molti infatti gli impegni che vedono l'associazione culturale Monsignor Francesco Sannino protagonista sul territorio come le azioni che si occuperanno di seguire gli studenti e le proprie famiglie attraverso il loro percorso formativo promuovendo l'istruzione scolastica con iniziative in ambito editoriale. Le persone che entreranno a far parte dell'enorme famiglia dell'associazione in ricordo del Monsignore saranno senz'altro coloro che vogliono mantenere vivido il ricordo di Francesco Sannino un parroco che ha saputo farsi amare una vita che l'ha visto sull'intero territorio vesuviano. Nel 1951 infatti iniziò a muovere i primi passi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte poi parroco a San Giorgio a Cremano per poi tornare nella sua Torre del Greco dove prestò la sua attenzione anche ai più giovani diventando assistente studentisco della Stella Maris fino all'insegnamento nell'Istituto Nautico Torrese. Monsignor Sannino seppe contraddistinguersi anche in ambito editoriale pubblicando numerosi iscritti a partire dal 1987 quando divenne direttore del settimanale Diocesiano Nuova Stagione il logo dell'associazione semplice essenziale ma significativo diretto così come la vita di Monsignor Francesco Sannino e infine le iniziali FS ed un simbolo composto da una croce ed un ancor a rappresentare i due mondi del Monsignore la fede ed il mare Grazie per la cortesia e attenzione per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484 Grazie e buon weekend Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sovrapposti